Ciao Armando! Ciao Lucia! Hai sentito parlare del progetto I Parchi a Casa Tua della Regione Lazio? Sì, certo, molto interessante! Per questo, ma che ne pensi se leggessimo delle fiabe, raccontassimo delle storie, per tenere vivo il legame con i bambini e le loro famiglie che frequentavano le aree protette? Solo nell'attesa di poterci tornare dal vivo? È una bellissima idea! D'accordo allora, appuntamento tutti i giorni alle 18.30 sul sito www.parchilazio.it Vado a preparare i miei libri! Ciao! Anch'io vado a preparare le storie da narrare! Ciao!